Cari studenti, alunni, famiglie, docenti e lavoratori tutti dell'Istituto Comprensivo Angelo Roncalli di Grotte, come è noto il nostro istituto è stato accorpato all'Istituto Comprensivo Sciascia di Racalmuto a scrivere il sindaco di Grotte, Alfonso Providenza. Ciò è stato deciso dalla regione siciliana con l'approvazione del piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 24-25. In questi anni abbiamo resistito, ma purtroppo la voglia matta di razionalizzazione della rete scolastica ha definitivamente stroncato la nostra resistenza, dice il sindaco. Questa volta il non sufficiente numero di studenti e la posizione geografica non hanno permesso un nuovo miracolo. Pu tuttavia l'accorpamento degli istituti di Grotte e Racalmuto è da considerarsi come un fatto positivo e questo perché è stato evitato il peggio, ossia l'accorpamento delle nostre scuole con istituti di paesi più grandi e distanti non solo geograficamente dal nostro territorio. L'aggregazione con lo Sciascia di Racalmuto determina semplicemente un dimensionamento della direzione scolastica sotto l'aspetto squisitamente amministrativo. Rimarrà sempre la nostra specificità didattica e formativa che ci consentirà di continuare ad essere una delle migliori scuole della provincia di Agrigento. Il nuovo istituto si chiamerà Sciascia Roncalli. I nostri pressi continueranno a derogare istruzione e formazione come sempre hanno fatto senza nessun cambiamento formale e sostanziale anche con riferimento ai servizi garantiti dal comune di Grotte a partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Si tratta di un semplice dimensionamento organizzativo che non apre le porte a nessuna unione fusione tra i due comuni. Il piano regionale avvia una sorta di mero consorzio di funzioni che nel prossimo futuro potrà riguardare anche l'azione della polizia locale o la gestione dei servizi pubblici locali. Nei prossimi giorni, conclude il sindaco, incontrerò il collega di Racalmuto e la dirigente scolastica Carmen Campo. I rapporti sono e saranno ottimi e tutti continueremo a lavorare per consolidare l'ottima ed immediabile tradizione della scuola grottese, conclude Alfonso Providenza.